E' sempre un piacere, è sempre emozionato per la mia Napoli, per le persone che ci hanno sempre creduto in me. Voglio vedere, oggi vengo riconosciuto questo bellissimo attestato e sono emozionata. Spero che questa emozione non si leva mai, perché più delle emozioni più significa che si rimane con l'umiltà. E' stata premiata con il riconoscimento della città da parte dell'assessore alla cultura e turismo Nino Daniele, Teresa Iorio, campionessa partenopea dell'arte della pizza. Innamorata della sua città, la Iorio è uno dei simboli della cultura gastronomica e dell'accoglienza di Napoli nel mondo. Con una cerimonia in sala giunta le sono stati consegnati una pergamena e la targa della città in segno di profonda gratitudine. Per me pizza è il mondo, Napoli, famiglia. E farci parte, la famiglia è là, come fare parte di un'associazione meravigliosa. Fa noi pizzaioli napoletane di Sergio Micù, fare parte del grande mulino Caputo di Napoli, di Antimo Caputo, di fare parte di un'azienda meravigliosa. Sono fortunata di fare parte ancora dell'azienda Rosso Pomodoro. Quindi sono una femmina fortunata e coccolata. Io penso che sia veramente una donna emblematica di quella che è la forza delle donne di questa nostra città. Ecco, quando immaginiamo il pizzaiolo lo immaginiamo come un maschio. Invece, Teresa, la dimostrazione è che le donne eccellono anche in questa attività. Vi portano anche un apporto originale e fondamentale. Noi in genere diciamo la pizza patrimonio mondiale Unesco. È l'arte dei pizzaioli che è patrimonio mondiale Unesco. E quell'arte è un'arte di costruzione della comunità. E questa è una cosa che ovviamente Teresa, con la sua attività e col suo impegno sociale, fa ben oltre il significato. Pure importante, perché non dimentichiamolo, che la pizza è anche imprenditorialità. Quindi occorrono anche capacità imprenditoriali.